preambolo del preambolo a fine puntata vi ho detto che l'audio sarebbe stato diverso ebbene è stato diverso non perché ho rifatto lo studio ma perché ho lasciato le finestre aperte quindi in questa puntata sentirete le auto che passano le persone che parlano eccetera mi scuso fin dall'inizio ma rire di sarei tutto non avevo il tempo e quindi abbiate pazienza la puntata sarà un po così per oggi mi dispiace bene vi lascio alla puntata vera la faccenda è sempre la stessa non si tratta del sé ma del quando prima o poi qualunque azienda verrà bucata una volta tocca alla regione razio questa volta è toccato all'aslo 1 avezzano sul mona l'aquila ed è una roba di una gravità enorme talmente grave e seria che dopo più di un mese dall'attacco un comunicato ufficiale recita così abbiamo subito un attacco da un virus nuovo sconosciuto anche alle autorità inquirenti che lo stanno esaminando proprio come si fa come virus biologici per costruire un nuovo livello di sicurezza a beneficio di tutti inutile dire che una supercazzola epocale visto che sono stati colpiti dal più banale dei ransomware che ha sfiltrato e cretato tutti i dati ma al momento ancora non si sono degnati di dirlo in modo ufficiale io sono francesco tucci mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 premesse importanti e doverose non conosco la realtà informatica di quell'asle ho solo le informazioni che abbiamo tutti quelle che arrivano dai giornali e dai mezzi di comunicazione quindi assimilabili al niente ma so anche da fonti meno ufficiali che i dati usciti sono spaventosi anche questo lo dovreste sapere tutti se leggete un po sui canali social ho anche lavorato per molti anni come sistemista e so bene come deve essere fatta un'infrastruttura informatica e come è fatta nella realtà di molte troppe aziende per tutto questo sono arrabbiatissimo non solo per per l'asle ma per la realtà in generale predico sempre che avere a che fare con i dati è un lavoro importante che si deve trattare bene e che si devono tenere al sicuro ci sono delle leggi che prevedono da tanti anni almeno 20 che certi tipi di dati devono essere trattati con più cura di altri i dati sanitari sono quelli che devono essere trattati con più cura di tutti il gdpr nel suo articolo 25 prevede la privacy e la sicurezza del dato by design si deve fare per legge un sistema che protegga i dati partendo dal suo progetto questo vuol dire che va messo dentro tutto vanno valutati tutti i rischi e quali sono questi rischi ben elenco alcuni esiste il rischio di perdita dei dati per un motivo qualunque che sia un guasto un evento atmosferico un incendio o un problema software vale anche per una cancellazione accidentale o voluta il sistema deve prevedere l'individuazione e il ripristino del dato giusto per evitare di dire in questo caso ai pazienti che gli esami che hanno fatto non esistono più o che non è possibile sapere se il ticket è stato pagato oppure no perdere parte dei dati potrebbe portare al blocco delle operazioni l'asle in questione lavora su carta da settimane e il backup che fine ha fatto e il ripristino forse può sembrare quello che se la tira ma dove lavoravo prima gestivo una sessantina di server virtuali alcuni piccoli altri decisamente grossi quando si è scassato il server oracle per un problema software del sistema operativo mannaccia lui in circa tre ore ho ripristinato l'intero server di circa un tera e mezzo dal backup fatti vari test in meno di sei ore era tutto tornato su a questo i backup servono si lo so che in un attacco come questo si deve bonificare tutto e non si deve solo fare il restore della cartella o del db perso non ci vanno tre ore e neanche sei per tutto intendo l'intera infrastruttura di server e client perché diventa molto complicato sapere se il malware o quel programma lì ha codificato tutto è ancora presente e dove sta in più immagino che le autorità abbiano messo l'intero sistema sotto sotto sequestro impedendo di fatto di ripristinare i dati sui sui server e di riprendere il il lavoro ovviamente i backup non devono essere online ci deve essere una copia meglio di più con un po di storico staccata dalla rete a livello fisico poi esiste il il rischio di accesso eccessivo ogni persona che lavora su determinati dati deve accedere solo a quelli strettamente necessari per il proprio lavoro perché perché la gente è curiosa perché la gente ha un prezzo perché la gente che ha troppi accessi prima o poi scrive qualcosa al posto di leggere e fa un danno e perché se l'utente che becca una schifezza ha troppi accessi quella schifezza fa troppi danni adesso se fossi in una sala con un po di amministratori di sistema chiederei quanti hanno come password dell'utente sa di sql la solita sa o password o il nome dell'azienda dalla mia esperienza il 90 per cento e ancora il 90 per cento o anche un po di più usa questo utente sa che è l'amministratore totale globale del database server per fare ogni tipo di accesso dalla gestione alla connessione odbc per i report su access dove lavoravo prima quando sono arrivato una dozzina di anni fa c'era il file server con una sola cartella condivisa accesso in lettura e scrittura per tutta l'azienda e quindi abbiamo anche preso uno dei primi la ransomware via pec e ho dovuto fare il restore di tutto il file server avevamo anche una serie di sql con accessi con utente di database administrator per chiunque ci ho messo anni a sezionare e a limitare esiste il rischio del dipendente infedele tutti hanno un prezzo tutti possono essere corrotti e se si scopre che hanno accesso a molti dati interessanti è molto facile chiedere loro di sfiltrarli bene in moltissime aziende dove sono stato quasi tutti i dipendenti dalle loro postazioni avevano accesso a ogni tipo di dato sbagliato devi dare accesso solo ai dati che riguardano strettamente il tuo lavoro è una roba scomoda e lunga da gestire ma è più sicura esistono dei software che controllano chi accede a che file quando e cosa ci fa se qualcosa esce si sa chi chi è stato quando come ci sono sistemi che bloccano la scrittura di file su drive esterni al pc insomma c'è modo di di fare qualche cosa per proteggersi pensate al dipendente che scopre di poter accedere a tutte le cartelle di tutti i pazienti di una asl avete idea di quanti soldi può fare rivendendoli non proprio pochi ci sono gli attacchi informatici con il tempo sono sempre più sofisticati questo vuol dire che le difese devono essere sempre più complesse all'interno di ogni azienda ci devono essere difese di di diverso tipo le macchine devono essere aggiornate quelle esposte e anche quelle non esposte sfruttare le vulnerabilità dei sistemi operativi aggiornati per prenderne il controllo è una delle vie di attacco più usate è una porta che deve rimanere chiusa soldi o non soldi tempo o non tempo server e client devono essere aggiornati lo ripeto e se non aggiornati devono essere sostituiti non aggiornarli è un po come smettere di fare i controlli sugli estintori e sui sistemi di rilevazione fumi semplicemente è vietato dalla legge unit manager che permette o invita pratiche di questo genere va rimosso il suo capo se ne ha conoscenza e non lo rimuove secondo me va rimosso anche lui la rete va sezionata anche internamente i client devono raggiungere solo i dispositivi di cui hanno effettivamente bisogno non serve che tutti i client raggiungano la porta rdp di tutti i server per esempio questo accesso va bloccato dal firewall interno se un client viene infettato da qualcosa che attacca i server su quella porta se non ci può accedere l'attacco fallisce così vale per ogni tipo di accesso inutile i client devono accedere solo dove hanno bisogno solo su quelle macchine e solo su quelle porte è un lavorone enorme sulla rete e sul firewall interno ma va fatto nessuno deve poter accedere alla sezione della rete dove ci sono i backup ma proprio nessuno è solo di un attacco a una società dove sono entrati e hanno brasato oltre a tutte le macchine virtuali anche l'infrastruttura di disaster recovery e tutti i backup era tutto raggiungibile via via rete i backup con uno storico adeguato vanno tenuti staccati dalla rete e poi siamo completamente al sicuro ma anche no va un po meglio ma non del tutto si deve controllare sempre tutto per cercare di capire se ci sono software malevoli nella rete i malintenzionati prima di sferare gli attacchi magari studiano alla rete all'interno per settimane o anche mesi e quando succede l'irreparabile le persone che devono intervenire sono pronte sono allenate si fanno esercitazioni antincendio i corsi per spegnere le fiamme e i corsi di primo soccorso perché non esistono corsi e le esercitazioni per ripristinare un sistema compromesso con il calcolo dei 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 tempi di di ripristino se esistono i controlli da parte dei vigili del fuoco per conformità antincendio o quelli dei nas per la conformità dei dei ristoranti ad esempio perché non esistono dei controlli seri fatti da persone qualificate che siano ripetitivi e a e a tappeto che arrivano si siedono e controllano tutto quello che serve per capire se il lavoro e e è stato fatto bene come è strutturata la rete cosa succede se collego un pc non aziendale su un cavo staccato da un pc aziendale e se faccio una scansione di di rete da questo pc cosa vedo riesco a vedere server su su supporte supporte a rischio qualcuno si accorge che sto facendo una scansione di rete come siamo messi a aggiornamenti ci sono delle persone che hanno mandato lettere al limite del minatorio perché alcuni enti pubblici usavano servizi di società americane ma non è più pericoloso avere interi sistemi informatici con software obsoleto non protetto con personale non formato e backup fatto male chiudo se no vado avanti per altre sei ore con una cosa che mi ha dato molto fastidio la completa mancanza di comunicazione ora voi immaginate di essere pazienti di quell'asle e aperta parentesi tutto quello che ho detto non è detto che sia la realtà di quell'asle è una realtà generica magari qualcuno tra gli ascoltatori è un paziente loro sapete che c'è stato l'attacco che i servizi sono fermi e non sapete niente sul loro ripristino perché nessuno era pronto e soprattutto a fronte della pubblicazione da parte dell'attaccante non sapete di preciso cosa sia stato pubblicato sul vostro conto i dati sanitari pubblicati sono molto pericolosi in un periodo in cui la sanità pubblica zoppica molta gente sta pensando di fare un'assicurazione sanitaria privata se l'assicurazione sanitaria sa cose di voi prendendole da quei dati che a fronte dei comunicati che intimano di non leggerli perché è un reato nessuno può impedire loro di leggerli potrebbero applicare un premio più alto senza che voi sappiate perché ma voi non sapete che cosa è uscito sul vostro conto perché nessuno lo ha lo ha lo ha detto si sa che sono uscite diagnosi di positività all'HIV se la cosa gira avete idea dei problemi sul posto di lavoro o della difficoltà per trovarlo e non dicono non ti assumo perché sei sei HIV positivo non ti assumono punto è e basta ma tu non sai se quello è un dato che è uscito oppure no e non stiamo lì a contarci che queste discriminazioni non esistono ti hanno attaccato ti hanno bucato devi dire cosa è successo e devi avvisare tutte le persone coinvolte non è che ti devi vergognare come i bimbi che hanno mangiato la la nutella quando i genitori erano erano fuori casa manca ancora tante di quella cultura sulla sicurezza informatica che quello che mi sento di 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 provare ora è una cosa mista tra rabbia e imbarazzo pillole di bit è un podcast settimanale di tecnologia scritto e raccontato da francesco tucci senza usare sistemi di scrittura basati su intelligenza artificiale esce ogni lunedì mattina o quasi un grande contributo alla realizzazione è fornito dall'hosting third eye che vi consiglio di considerare per le vostre necessità online e dal software producer di ulti.media per mac os che mi permette di montare le puntate alla velocità della luce sul sito pillole di bit con il punto prima dell'it si trovano tutte le informazioni necessarie per i contatti per partecipare alla community o per sostenere la realizzazione del podcast con donazioni o link sponsorizzati il podcast viene sostenuto solo grazie alle donazioni non ha pubblicità per ringraziare i donatori oltre ad essere citati in puntata spedisco gli adesivi il magnete da frigo o il portachiavi in base all'importo donato basta compilare il forum dedicato il link è sul sito nelle note di ogni puntata si trovano tutti i link citati in trasmissione il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e se volete per saltare questa parte una volta imparata a memoria se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico scrivetemi a pdb chiocciolatucci.b pdb come pillole di bit chiocciolatucci.bologna otranto otranto i ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a alen giorgio e giorgio con il loro abbonamento mensile ivan con il suo nuovo abbonamento mensile di questa settimana ivan un diverso ivan da quello di cui di cui prima nicola gabriele e giampaolo grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite ve ne sono davvero davvero grato il tip di oggi è un endorsement al servizio di hosting che uso per il podcast quindi per il sito l'archivio delle puntate il feed eccetera uso i servizi di third eye da diversi anni e ne sono così soddisfatto che ho chiesto a gianluca la persona che ha che lo ha fondato è il mio tecnico di riferimento un sacco di altre attività in ambito hosting e servizi più evoluti senza pentirmene mai ho fatto spostare sul suo servizio hosting condiviso molti molti amici e vari clienti e nessuno ha mai avuto da lamentarsi del livello di servizio della gestione o della fatturazione tutte persone che nei servizi precedenti in qualche modo avevano avuto delle difficoltà dove lavoravo prima insieme a gianluca ho realizzato un progetto per il portale aziendale con tre server db server web tutto configurato da lui in modo impeccabile so che se ho bisogno di attività in questo ambito sulla sua capacità tecnica posso metterci la la mano sul fuoco anche qualche ascoltatore ha iniziato a usufruire dei suoi servizi e so che si sta trovando bene a differenza di altre attività che vi propongo ogni 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 tanto se andate da lui non ho vantaggi economici ve lo consiglio perché so che è un ottimo fornitore dall hosting dove ad esempio gestisce il sito di mia moglie che fa migliaia di accessi al giorno senza accusare minimamente il colpo fino a cose molto più evolute nelle note dell'episodio c'è la mail da contattare per iniziare a chiedere informazioni e eventualmente collaborare per chi invece vuole abbonarsi a e web si può fare sempre anche se non è crollato un altro provider sono stato dotato di bellissimi gadget aggiuntivi quando fate l'abbonamento compilate il form vi contatto e ve ne faccio scegliere uno scusate per la voce terribile ma ho passato una settimana con un raffreddore epico che si è sommato alla ricostruzione dello studio per questo motivo dovreste aver sentito anche l'audio leggermente diverso grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di pillole di bit ci leggiamo in settimana sul canale telegram e se non vi siete iscritti fatelo in attesa della puntata di settimana prossima ciao